Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella seconda puntata del mio vlog in Polonia Allora, come potete vedere sono dietro una specie di una statua, non ho capito che dopo, tra poco vi farò vedere e niente, oggi finalmente andremo a vedere, un po' a visitare e allora, cominciamo Dove l'avete visto prima, poco prima, eccola qua Non si capisce bene perché sembra che abbia delle zampe animali con poi una specie di rettangolo sopra, non capisco il senso Allora, invece questa qui, questa invece è la basilica di Santa Elisabetta Io non credo che possa fare video dentro la basilica Quindi noi ci rivedremo nel campanile dove dovremmo salire 300 scalini Vi farò vedere anche un po' il panorama Quindi ci vediamo al campanile Siamo arrivati in cima al campanile Ora, cerco Siamo in cima al campanile, guardate un po' Quella è la Sky Tower Guardate un po' il passaggio Guardate il passaggio, qui si è in me Ecco Vediamo, scaldiamo Sì, ma te lo vediamo Sono belle, guardate quantità c'è la piazza Tutto lì, c'è le piazze del mercato Adesso vi farò vedere C'è la piazza del mercato, bene Guardate anche qui sotto Vedete come è bello bellissimo pesante facciamoci il giretto lì aspettate questa torre quella dovrebbe essere la sky tower questa che vi sto ingrandendo aspettate ecco il palazzo più alto di tutti ci sono nati un sacco voi non vedrete bene ma lì ci sono delle specie di torri dell'oroggio ora cercherò di ingrandirvi anche perché queste appunto sono delle specie di torri delle torri anche quelle le saleremo proprio avanti non so se oggi o domani questo qui che adesso inquadrando è il fiume è il fiume Oter comunque in quelle torri ho chiesto e ci andremo domani a visitare quelle torri che vi ho fatto vedere insomma questo è il fiume Oter qui c'è il ponte adesso ve lo farò vedere questo invece è più o meno la stessa angolazione però un po' differente adesso vi faccio vedere invece di tipo da una specie di un altro lato vediamo un po' ancora da un altro angolazione fino a qui posso arrivare il massimo e ve lo faccio vedere anche a voi vedete voglio raccontare una storia allora anni fa in Polonia c'era un regime comunista e c'erano delle persone che si volevano opporre a questo regime comunista però si esprimevano le loro parole che si volevano opporre venivano arrestati allora questi che si volevano opporre per ridicolizzare il potere di questi comunisti crearono questi gnomi che sono diventati il simbolo della città in questa città Breslavia che è la città che stiamo visitando mi ero dimenticato di dirvelo ci sono circa 200 gnomi che come vi ho detto prima sono diventati il simbolo nella città perché tra poco andremo a vedere tra poco andremo a vedere la strada dei Macellai e se incontreremo qualche gnomo voi saprete già perché li incontreremo perché vabbè ci sono 200 gnomi nella città di sicuro ne vedremo alcuni ora ve ne faccio vedere alcuni che ci sono alcuni anche qui sotto bene adesso vi farò vedere alcuni degli gnomi questo qui è uno degli gnomi che viene rappresentato adesso vi farò vedere altri gnomi che si trovano qui vicino aspettate questi invece sono rappresentati come degli gnomi che pompieri perché si vede la pompa e la scala invece questo gnomo non ho capito cosa bene rappresenti se voi l'avete capito scrivete uno nei commenti adesso ve lo faccio vedere più vicino secondo me è una specie di bandiera non so cosa sia perché non me ne intendo tanto di antichità onestamente adesso non me ne intendo tanto di antichità adesso vi farò vedere anche io che diventerò uno gnomo fai sono anche uno gnomo sono delle altre pute di gnomo ecco qui Luigi gnomo ecco qui Luigi gnometto questa è invece è un'altra struttura chiamata la casa di Hansel e Gretel non so da che cosa deriva questa nome di sopra voi non posso non vedete degli giovetti in vendita qui vediamo anche che è un po' sporca e spero arriva l'ombra ok questa non so perché è la cosiddetta casa di Hansel e Gretel ora ora vi farò vedere la via dei macellani scusate non andremo a vedere la via dei macellani perché non avevo capito bene una cosa perché quella che vi ho fatto vedere cioè questa è la casa di Hansel questa è la casa di Hansel che ve l'ho fatta vedere anche prima l'angolazione io avevo detto che era la casa di Hansel e Gretel però cioè in realtà era la casa solo di Hansel invece questa questa invece aspettate è la casa di Gretel quindi io ho sbagliato perché avevo detto che questa non sia la casa di Hansel e di Gretel ma avevo sbagliato guardate qui vi farò vedere un po' le case qui aspettate questo numero non c'entra questa è la casa di Gretel e quella di Hansel vedete anche questo archetto bene credo che adesso andremo a vedere la via dei macellani se non c'è qualche altra incomprensione la via dei macellani dove potremo trovare un vitellino una bella capra un'oca e l'anatra delle uova d'oro più avanti rischeremo di raccogliere quello perché sembra che sia impiccato voglio farmi soldi qui invece abbiamo un paio di maialini un bel leprotto aspettate cerco di farvelo vedere meglio perché non so se ve lo vedete perché sto per portare ecco leprotto e qui abbiamo un gallo non è tutto oltre la uova d'oro c'è anche la pupu d'oro poi potete vedere mio fratello ha scoperto la pupu d'oro ora secondo me questi stati sono fatti davvero bene tranne per alcuni piccoli dettagli ma secondo me questo è quanto si deve fare ma l'unico problema che dobbiamo risolvere è come cercare di prendere l'uovo d'oro e la pupu d'oro e la pupu d'oro però quella eviterai di toccarla adesso andremo una via del municipio di Breslavia se non ve lo ricordate questa è la città in cui stiamo visitando che tra poco andremo anche a vederla dentro non so se in questo momento o più tardi e non so nemmeno se posso fare video poi mi avviserò dopo non so se posso fare video dentro ci proverò comunque non lo so se è autorizzato se non è autorizzato ve lo dirò e invece se lo posso fare ve lo farò ovviamente vi farò vedere un po' capito bene andiamo alla prossima cosa da vedere vedete un po' quello è il papa Giovanni Paolo II che perché non lo sapesse era un papa polacco poi qua ci sono alcuni suoi ritratti andiamo eccoci qua dentro alcune stanze dove qui non so se si trovano dei mobili dove qui si trovano alcuni mobili non mi farà più dire questo sono perché per la fretta non me ne sono nemmeno chiesto ma voglio dire di lasare il consiglio poi qui abbiamo anche dei quadri infatti come prima poi questo quadro non lo so mi sembra bene forse voi non lo vedete bene lo vedete un po' spocato perché non ci vedo un po' anche il nero ma in realtà non è tanto colorato perché c'è voglio farvi vedere alcuni di questa stanza aspettate per cui vi pare adesso va bene adesso vedremo un'altra parte perché adesso si vede la parte superiore perché ho salito le scale e adesso vedremo un'altra parte di questa parte del municipio questo qui c'è un altro quadro della sala del consiglio e questo mi capito dovrebbe essere una specie di trono o una serie dove le persone sedevano ancora bene non ho capito qui invece troviamo un'attuazione molto particolare ovvero il Simon Augusti Damascolus molto particolare e molto lato da trovare ne esiste solo uno in tutto il mondo e ci dobbiamo noi bene quindi con questo la vita del municipio si è finita adesso vi farò vedere alcuni nomi e poi vedremo quale sarà la prossima cosa da fare come ho detto prima il municipio era finito e qui allora troviamo una serie di gnomi qui troviamo uno gnomo sordo perché si vede che è alla mano all'orecchio perché non sente qui invece ne troviamo uno cieco si capisce sia dagli occhiali molto vasti e poi anche dal bastone che non vede dove camminare e qui invece c'è un disabile e non c'è niente da dire che si capisce visto che ha la sedia in rotelle adesso andremo a vedere altri gnomi questo invece è una specie di gnomo che trasporta l'acqua è un uomo che si vede che sta muovendo il cubinetto una specie di cubinetto gigante vabbè che farà uscire l'acqua questo gnomo è simpatico non lo so perché ma vedo di uno sguardo un po' cattivo ho già visto antipatico bene passiamo all'ultimo gnomo che vedremo in questo in questo in questo non sarà l'ultimo gnomo tipo passiamo un altro gnomo facciamo due bene qui vediamo l'ultimo gnomo questo dovrebbe essere l'ognomo saggio questo è l'ultimo gnomo così così si chiude la mattinata questo è l'ultimo gnomo e adesso si chiude la mattinata comunque noi andremo a mangiare al mcdonald ve lo farò anche vedere tra poco ragazzi scusate i miei continui errori ma non vi farò vedere il mcdonald si ve lo farò vedere ma dopo perché adesso dovremo andare a vedere una specie di negozio di fiori non so che ci troviamo di speciale ma noi dobbiamo andare ecco qui uno dei negozio di fiori della piazza poi ce ne sono uno anche tipo qui dietro un attimo ce ne è uno anche qui e poi la veloce di diventanza perché devo proprio andare ce ne sono alcuni lì dove ci sono solo dei fiori adesso andiamo ai prossimi qui un altro dei negozi dei fiori zoomiamoli un po' adesso ci vado vicino perché forse vi vedrete tutto scuro ma ci sono una marea di fiori sono questi e ci piace più vicino ecco ecco adesso vedo un bellissimo faccio i fiori adesso vedo un'ultiseta poi anche le piantine le fiori tutte quante vabbè le frutti poi ci sono in parte pure là vabbè poi le fiori un altro un altro negozio di fiori un altro negozio di fiori belli che si è anche il genere di fiori che sono molto interessanti bene non so se ne vedremo altri di fiori oppure andiamo direttamente a farvi vedere il metto adesso però facciamo un po' ci sono solo alcune piccole piantine e qui ci sono dei palloncini un marone io conosco da queste persone solo cars poi gli altri non l'ho ah poi ho consultata poi gli altri non l'ombra roba di che per siano vabbè qui siamo in polonia credo che ci sono altri eroi bene eccoci qui siamo in un altro negozio fiori poi un altro non è che sono interessanti però eccoci qui al mac donald si riconosce dalla M e vabbè poi ne ha scritto proprio di fronte al Burger King aspettate non so se lo vedete bene eccola qui vedete il Burger King quindi adesso prendiamo la tavola vi farò che si muove una cosa che è bella che ora è un'unica di questa l'avene adicioso arrivato anche il bambino si rompono gli aspetti che per me è una legna poi un'unica più bella gli spaventano la tua casa e lì ci arrivava con una bottiglia che ci piega mi sono con una distanza di lo è un'unica ci è un'unica qui ti è un'unica e che è un'unica è un'unica di la l'unica la Grazie.